Quando il terreno di gioco chiama, i giovani atleti del country tennis del maestro Guido Nazzaro rispondono ed ecco che i fratelli Taccone, Francesco ed Alessandro, con Andrea Lombardi, Loris Tuccia e la quota rosa con Asia Frusciante e Maria Fiorita Romano, nonostante sia Natale, sono in campo a smesciare. Il 2020 ha portato moltissime soddisfazioni alla scuola bellinese, ma soprattutto piccoli record individuali per i fratelli Taccone, ma ha portato ai giovani ragazzi tanto entusiasmo, tanta voglia di condividere una passione e soprattutto tanta voglia di divertirsi ancora. C'è chi definisce la scuola di tennis una seconda famiglia, chi coltiva sogni nel cassetto e chi invece per colpa del nemico invisibile non ha potuto esprimersi al meglio. Il 2020 ha portato la promozione da 3-1 a 2-8, dopo di andare meglio non fa niente, ci accontentiamo. Ha portato la promozione da 3-3 a 3-2, il prossimo anno mi aspetto comunque di avere un'altra promozione, se da 3-2 a 3-1 o 2-8 e comunque di fare qualche torneo in più. Inizio è la mia seconda casa perché ovviamente oltre all'aspetto agonistico, sportivo e quindi all'attività fisica, c'è sempre prima di tutto, secondo me in qualsiasi sport e competizione, l'amicizia e quindi per me è una seconda casa questa. L'anno nuovo mi aspetto di giocare molti più tornei, di fare molte più partite e di salire di classifica, visto che quest'anno non ho fatto molti tornei, per la pandemia e per vari stop che ci sono stati imposti. Quest'anno non sono stata molto attiva a causa della pandemia e spero che con un miglioramento anche dell'anno prossimo una promozione, comunque un anno migliore sotto tutti i punti di vista. E no, anche per me è una seconda casa, comunque oltre tutto l'aspetto fisico e sportivo anche per i compagni, per l'atmosfera. Quest'anno mi ha portato una bella stagione agonistica, con tanti bei traguardi e obiettivi sicuramente ancora da raggiungere. La promozione è a seconda categoria e spero di continuare a crescere come ho fatto in questo periodo.